commenta il fatto del giorno enzo d'antona direttore del piccolo enrico cuccia il padrone dei padroni la figura più importante del capitalismo italiano enrico cuccia protagonista assoluto del mondo dell'economia e della finanza per buona parte del novecento enrico cuccia era esponente di una antica famiglia siciliana di mezzo iuso nell'entroterra palermitano una zona greco ortodossa la piana dei greci la chiamano in sicilia e suo nonno era già un parlamentare un importante parlamentare siciliano simone cuccia lui nacque a roma però almeno una cosa tipica siciliana ce l'aveva vedere l'essere un uomo molto silenzioso non era difficile da incontrare enrico cuccia chiunque di noi poteva incontrarlo a milano ogni mattina in via filodrammatici nella sede di mediobanca anzi ogni tanto era possibile anche vedere nelle librerie del centro di milano solo che enrico cuccia non parlava mai con nessuno cioè non ha mai detto una parola qualche volta qualche troupe televisiva lo inseguiva non questo ometto così piccolo ma lui pur non parlando era il dominus lo chiamano il padrone dei padroni perché era il dominus dell'economia del potere delle imprese italiane enrico cuccia aveva una grande missione che era quella di difendere il capitale dalle ingerenze dei politici aveva cominciato presto per l'esattezza nel 1936 quando il governo il ministero per gli scambi e le valute lo aveva mandato nell'africa orientale italiana ad adis abeb appena conquistata per per verificare i conti del maresciallo graziani che era il governatore il nuovo governatore ovviamente cuccia si oppose alle spese folli di graziani il quale protestò si guadagnò l'elogio pubblico scritto di mussolini però venne richiamato in patria nel dopoguerra con medio banca cominciò la sua attività di banchiere di medio credito perché medio banca nacque come un istituto di medio credito per finanziare le imprese i soci erano le bin le banche di interesse nazionale e a poco a poco trasformò medio banca in una merchant bank bene non c'è operazione finanziaria economica dal dopoguerra praticamente è fino al 2000 fino a quando già era 90 anni in cui cuccia non abbia messo le mani in cui cuccia non abbia suggerito non abbia deciso assetti non abbia deciso incorporazioni fusioni diciamo che è stato il vero assistente del salotto buono dell'economia italiana agnelli pirelli bonomi e tanti altri messo diciamo intervenuto in tutto ora quanto questo abbia fatto bene al capitalismo italiano diciamo con gli occhi di oggi non lo sappiamo però di sicuro c'è che che cuccia la lascio in eredità soltanto un unico conto corrente con 150 mila euro che poi i figli si diviso anche era di di famiglia ricca la moglie la moglie idea nuova socialista era la figlia di beneduce altro grande economista del novecento ma cuccia in fondo ecco voglio dire che non sia non si arricchi un'unica ombra nella sua vita era la sua siccome si era opposto alla mafia a un certo punto sindona aveva espresso a cuccia delle minacce nei confronti di ambrosoli ecco lui non lo disse direttamente ad ambrosoli questo questo è l'unicombra che lui avuta però poi fugata perché si è saputo dopo molto dopo che in realtà cuccia aveva avvisato i magistrati di queste minacce ad ambrosoli e i magistrati le avevano sottovalutate